So che il campionato di Serie B è un campionato lungo, tosto, che non si sa mai, penso che si sia visto negli ultimi anni. Le squadre che partivano per salvarsi, tipo Crotone l'anno scorso oppure Carpi, alla fine hanno fatto il grande salto. Io penso che Cesena quest'anno debba fare un grande campionato e dobbiamo divertirci, divertirci noi e divertire i tifosi. Sono un difensore abbastanza veloce, mi piace giocare palla e spero di farle vedere sul campo. Nella mia carriera ho sbagliato parecchie scelte, soprattutto all'inizio. Penso che questa cosa sia stato il mio punto di forza perché poi mi sono ritrovato a giocare in Serie C. e ho detto niente, c'è da rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Penso solo a lavorare seriamente sul campo, duramente, e poi comunque spero che i miei miglioramenti quest'anno si vedino in campo a Cesena. Per un'implante anche summo. Grazie a tutti.